Doveva essere rimpatriato, ma per evitare il provvedimento ha deciso, con uno stratagemma, di farsi ricoverare all'ospedale maggiore di Modica, da dove ha tentato di scappare gettandosi dal secondo piano, protagonista un giovane 27enne tunisino. Tiene banco a Ragusa la questione petrolio, c'è tensione tra le tante persone, complessivamente sono circa 500, che in provincia lavorano tra diretto e indotto in questo settore che vedono a rischio il loro futuro. Conferenza stampa del sindaco di Modica, Ignazio Abate, per illustrare i benefici della rideterminazione della pianta organica dell'ente, di recente approvata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria. E' stata consegnata questa mattina alla questura di Ragusa una scultura, opera del maestro Alfio Nicolosi, che ha voluto così manifestare la sua stima e riconoscenza per l'impegno profuso dalla polizia. 14 e 16 minuti, siamo tornati in diretta con MTG. Un tunisino 27enne giunto qualche giorno fa clandestino a bordo di un gommone e ospite del CPSA di Pozzallo, in attesa di essere rimpatriato. Ieri è stato portato in ospedale dopo aver ingoiato un piccolo oggetto metallico. Questa mattina, eludendo i controlli degli agenti che lo piantonavano, è salito sulla finestra del bagno ed è volato giù dal secondo piano dell'ospedale maggiore di Modica. Il giovane però non è in pericolo di vita. Tutti i particolari in questo servizio. Un tunisino di 27 anni, ospite fino a ieri del CPSA di Pozzallo, dove si trovava dopo essere arrivata a seguito di uno sbarco clandestino, questa mattina si è lanciato dal secondo piano dell'ospedale maggiore di Modica. L'extracomunitario si trovava ricoverato nel reparto di medicina del nosocomio modicano da ieri sera dopo aver accusato un malore. Il giovane diceva al personale presente nel centro di accoglienza di aver ingerito un piccolo oggetto in metallo, accuminato, forse una graffetta e quindi di avere urgente bisogno di cure. Il tunisino, prontamente trasferito da un'ambulanza del 118 in ospedale, è stato sottoposto ad un'attacca. Le medici hanno rilevato la presenza del metallo, ma prima che potessero intervenire questa mattina, l'uomo, probabilmente con l'intenzione di fare perdere le proprie tracce, sottraendosi al controllo degli agenti di polizia del commissariato di Modica, che lo piantonavano in ospedale in quanto destinatario di un decreto di espulsione, è andato in bagno e si è lanciato da una finestra dell'alla nuova della struttura. Dopo il volo dal secondo piano, l'impatto con il suolo gli è provocato una frattura al bacino che lo ha immobilizzato. Per fortuna il tunisino non è in pericolo di vita e nelle prossime ore dovrà essere sottoposto ad intervento per la rimozione del piccolo oggetto metallico. È probabile che la sua intenzione fosse quella di farsi ricoverare in ospedale a Modica, proprio per tentare da qui la fuga ed evitare che venisse rimpatriato in Tunisia. Un nuovo sbarco è in arrivo intanto. L'immigranti approderà infatti alle 17 al porto di Pozzalo la nave da di porto Fenix, con a bordo 77 migranti soccorsi nelle scorse ore nel canale di Sicilia. I migranti appartengono a varie etnie e giungeranno a bordo dell'imbarcazione al servizio di un gruppo di volontari. Sarebbe morto per cause naturali un rumeno 59enne bracciante agricolo in una serra nel Vittoriese. A segnalare la presenza del corpo privo di vita ieri era stata una telefonata al 113. Dalle testimonianze raccolte pare che l'uomo avesse accusato un malessere mentre lavorava ed aveva deciso così di tornare a casa. Una chiamata al 113 ieri sera ha segnalato la presenza del cadavere di un uomo riverso a terra in una zona rurale di Vittoria. Gli agenti di polizia della squadra mobile di Ragusa del locale commissariato sono immediatamente intervenuti in Contrada Gerbe, una zona caratterizzata da numerosi impianti serricoli e hanno constatato la presenza del corpo. Gli agenti hanno chiesto l'intervento dell'ambulanza del 118 per eventuali soccorsi sanitari che potessero essere ancora prestati, ma i sanitari hanno constatato che per l'uomo non c'era più nulla da fare e che il decesso, vista la rigidità cadaverica, risaliva già qualche ora prima. Sul posto la polizia scientifica e il medico legale per l'ispezione cadaverica e per identificare il cadavere. Con sé non aveva documenti ma aveva il cellulare e gli agenti, rispondendo ad una chiamata, sono riusciti a parlare con il figlio che lo stava cercando. L'uomo deceduto è risultato essere un rumeno di 59 anni, Cincus Stefan, impiegato come bracciante agricolo presso una vicina azienda serricola. Ad identificarlo sono stati lo stesso figlio e alcuni amici. Non sono stati rilevati segni esteriori di violenza e il medico legale non ha evidenziato alcun segno che possa fare risalire alla causa della morte. L'audizione di testimoni è durata fino a notte inoltrata, secondo le precise direttive impartite dal sostituto procuratore Gaetano Scollo. È emerso che l'uomo, nel primo pomeriggio, mentre lavorava dentro la serra, aveva accusato un malessere, tanto che il caposquadra gli aveva consentito di uscire fuori e tornare a casa. È risultato anche che l'uomo fosse un assiduo assuntore di sostanze alcoliche. È probabile che l'autorità giudiziaria, che sta valutando le risultanze d'indagine, disponga l'esame autoptico. Un centinaio di lavoratori del comparto petrolifero hanno occupato questa mattina il comune di Ragusa, dopo aver atteso in vano per tre giorni che arrivassero notizie sulle concessioni edilizie che l'amministrazione deve dare per consentire le nuove ricerche di idrocarburi. C'è tensione tra le tante persone, complessivamente sono circa 500 che in provincia lavorano tra diretto e indotto in questo settore e che vedono a rischio il loro futuro. Il termine per la concessione scade il 14 giugno e i lavoratori oggi hanno anche lanciato l'accusa su possibili strumentalizzazioni politiche generate dal clima elettorale, visto che tra due giorni si vota per i ballottaggi. Stanno davanti al comune di Ragusa da tre giorni con un gazebo improvvisato e i loro cartelli. Questa mattina hanno deciso di compiere un gesto ancora più eclatante e durante la seduta del Consiglio Comunale sono entrati a Palazzo dell'Aquila. Sono decine di lavoratori in rappresentanza dei circa 500 che in provincia di Ragusa, tra diretto e indotto, mantengono le loro famiglie grazie ai pozzi di petrolio. Stato e Regione hanno già dato il via libera alle nuove esplorazioni in territorio di Ragusa, ma manca l'ultima concessione, quella edilizia, che deve dare il Comune e che consentirebbe alle società petrolifere di continuare la ricerca e l'eventuale estrazione a terra dell'oro nero, concessione che va firmata entro il 14 giugno. Qualcuno ci deve dare una risposta. Non possiamo subire giochetti politici che si stanno consumando in queste ore in Sicilia. Probabilmente con il fatto che in Sicilia c'è il ballottaggio, magari qualcuno sta speculando sulla nostra pelle. Noi su questo non ci stiamo, perché è impossibile pensare che il nostro lavoro possa fare leva sulle decisioni, sulle sorti della politica in Sicilia. Assolutamente non siamo d'accordo. I ragazzi sono qui, non si muoveranno da qui, fino a quando qualcuno non ci dirà esattamente come stanno le cose. Conferenza stampa del sindaco di Modica, Ignazio Abbate, per illustrare i benefici della rideterminazione della pianta organica dell'ente di recente approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero dell'Interno. Per il primo cittadino, considerevole sarà la riduzione dei costi del personale. Per meglio comprendere l'entità del risparmio delle spese per il personale di Palazzo San Domenico, si deve fare un salto indietro nel tempo di 17 anni. Nel 1998 i dipendenti comunali erano oltre mille. Adesso, in virtù della nuova pianta organica rideterminata dalla Giunta e approvata dal Ministero dell'Interno, saranno soltanto 446, portando la spesa a regime a 13 milioni di euro, con un risparmio di 7 milioni l'anno. Rispetto al 2009, la spesa del personale, che è stato proprio l'anno nero, il buco nero della città di Modica, la spesa del personale era 20 milioni di euro l'anno. Oggi, a regime, prossimo anno, arriveremo a 13 milioni di euro. Significa 7 milioni di euro l'anno di personale in meno. Tutto questo risparmio viene drenato dal fatto che abbiamo trovato una situazione con più di 64 milioni di debiti e con un mutuo che la scorsa amministrazione ha contratto, dove veramente ha messo in ginocchio quella che era il principio anche della sussidiarietà rispetto alle tasse che pagano i cittadini e i servizi che ricevono. Adesso, rispetto alla rideterminazione della pianta organica, a protista burocratico, quale sarà il passaggio successivo? Niente, ora questo mette a sicuro e quindi c'è un risparmio ogni giorno per l'ente. Il prossimo sarà che questo provvedimento che è stato approvato dal Ministero passerà alla Commissione che andrà ad analizzare il piano di riequilibrio nella sua complessità e spero che dopo questo provvedimento importante sarà approvato in tempi bene e adottato o quantomeno ormai si esce fuori dalle impasse che c'era e andremo avanti spediti rispetto a quello che è il nostro lavoro, quello che stiamo mettendo in campo, in barba a chi vuole criticare, che negli anni scorsi ha amministrato e ci ha consegnato un comune in ginocchio veramente. Il comune di Modica si è costituito in giudizio nell'atto di appello davanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo proposto dall'assessorato regionale territorio e ambiente del Ministero della Difesa e altri rappresentanti dell'avvocatura distrettuale dello Stato avversa la sentenza con la quale in primo grado si imponeva lo stop ai lavori del MUOS di Niscemi. Con l'incarico a due legali a costo zero per l'ente, commenta il Sindaco di Modi che Ignazio Abate continuiamo assieme agli altri comuni, movimenti e associazioni questa battaglia contro la costruzione del sistema MUOS a Niscemi. Il raddoppio della Ragusa-Catania, evoluzione e risvolti è il titolo del convegno che si è tenuto ieri sera a Ragusa su iniziativa del Rotary Club. Roberto Sica, componente del Comitato per la Ragusa-Catania ha dato gli ultimi aggiornamenti sullo stato dell'arte e dell'infrastruttura a pochi giorni dalla scadenza dell'impegno assunto dal Ministero per illustrare la procedura finanziaria che dovrebbe consentire l'avvio dei lavori. Lo scorso 13 di maggio il Ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio garantì che entro un mese sarebbe stato illustrato il percorso definitivo sulla procedura finanziaria per il raddoppio della Ragusa-Catania progetto che risale al 2006. Mancano due giorni a voler essere precisi per questa scadenza. Va bene, il 13 di giugno è dopo domani, sabato poi c'è la domenica. Diciamo che ci aspettiamo ragionevolmente che lunedì prossimo battano un colpo da Roma. Intanto ieri sera Roberto Sica, componente del Comitato per la Ragusa-Catania ha aggiornato il Rotary Club di Ragusa e i partecipanti al convegno sullo stato dell'arte. L'opera non è stata inserita nell'ultimo elenco delle priorità nazionali ma, è stato detto, non è un ostacolo insormontabile. Tutto sarà declinato nel DPP di settembre, cioè il piano praticamente esecutivo delle opere che si inseriscono nelle opere delle infrastrutture strategiche. Per il Ministro e per il nuovo governo, governo Renzi, nelle infrastrutture strategiche devono entrare le priorità delle priorità. La nostra lo è ed è stata confermata. Sica, da 12 anni, fa parte del Comitato per il raddoppio della Ragusa-Catania. Inevitabile chiedergli cosa ne pensa di quella che ormai è oggettivamente una stanchezza diffusa nell'opinione pubblica, un sentimento collettivo di disaffezione e delusione per tanti anni di promesse mancate, di firme rimandate, di priorità eluse. È una decisione politica di carattere tecnico-finanziare, questa è la verità. E quindi noi dobbiamo, se vogliamo andare avanti, implementare questo discorso del monitoraggio e cercare di superare tutti gli ostacoli, non c'è altro da fare. Infine, l'annuncio, ierl'altro, del Presidente della Regione e del Consorzio Autostrade Siciliane sullo strumento del leasing in costruendo costruendo che consentirebbe di completare l'autostrada da Rosolini fino ad Agrigento addirittura. Un'ipotesi possibile, certo, dice Sica, ma tutta da verificare perché ci vorrebbero investitori con una liquidità rilevantissima, magari esteri. Non ci sono molti spazi dal punto di vista della finanza pubblica, si vede già. Però siccome siamo in un mondo globale, il denaro è in tutto il mondo, quindi può anche darsi che investimenti esteri o quant'altro possono utilizzare questo strumento per fare l'infrastruttura. La mozione di indirizzo a firma della senatrice Padua e di altri 29 parlamentari finalizzata all'istituzione a modica di una sezione staccata del Tribunale di Ragusa è un atto di serietà e di impegno a servizio dell'intera comunità Iblea. Il commento è di Enzo Galazzo, portavoce del Comitato Pro Tribunale Modica che dichiara era ora che qualcuno si accorgesse che il mancato utilizzo del Palazzo di Giustizia di Modica costituisce un intollerabile spreco contro l'economia del territorio. Sappiamo bene che la mozione ha dato solo l'avvio all'iniziativa. Confidiamo che la stessa si traduca in atti di concredito impegno del Governo e del Parlamento. E' stata consegnata questa mattina alla Questura di Ragusa una scultura opera del maestro Alfio Nicolosi che ha voluto così manifestare la sua stima e riconoscenza per l'impegno profuso dalla Polizia nell'essere vicina alla gente e rispondere alle aspettative dei cittadini. L'opera si chiama Diodato. Diodato, donato da Dio è l'opera del maestro Alfio Nicolosi che da oggi fa bella mostra di sé dentro la Questura di Ragusa. Nicolosi, originario del Catanese ma da anni residente a Pedalino è artista affermato che sa trasformare le pietre e i materiali grezzi del nostro territorio in autentici gioielli. Questa mattina la prima esposizione della sua opera per cui è stato scelto un contesto che potrebbe apparire non elegantissimo ma che in realtà esprime la volontà dell'artista di consentire a tutti di ammirare Diodato. Quando mi ha donato quest'opera quando me l'ha fatta vedere nella sostanza ha chiesto due cose che venisse messa in un posto che era visitato e popolato quotidianamente negli uffici di polizia dalla gente, dalla popolazione ed è stato scelto da lui questo posto perché questo è il posto di transito di un po' tutti dall'ufficio di migrazione alla divisione amministrativa agli uffici aperti al pubblico che stanno su quindi questo era il punto in cui tutti l'avrebbero potuto notare apprezzare quindi se è del caso che cosa significa? La prima cosa che gli ho chiesto è stata anche questa Diodato questa pietra è ciò che significa è proprio donata da Dio Quest'ora mi ha detto di trovare un posto io penso che questo è un posto ideale che tutti possono vedere questa opera Perché ha Diodato alla polizia? Beh, a dire il vero l'abbiamo scelto assieme a quest'ora l'abbiamo scelto praticamente io direi che è un'opera particolare insomma, non so se voi avete avuto modo di poterla constatare Alla cerimonia di consegna presente anche il cappellano della polizia padre Giuseppe Rammondazzo che con un momento di preghiera ha ricordato i caduti della polizia di Stato Spettacolo conclusivo domani sera al Teatro Garibaldi di Modica conclusione dell'attività del Laboratorio Teatrale di Riabilitazione Psichiatrica realizzato anche quest'anno dal Dipartimento di Salute Mentale di Modica Il progetto ha visto protagonisti alcuni utenti del centro di urno di Modica insieme ad operatori sanitari e animatori teatrali i proventi dello spettacolo intitolato L'Isola delle Emozioni serviranno per organizzare il progetto turismo sociale Appuntamento domani alle 20.30 Adesso noi ci fermiamo c'è la pubblicità ma torniamo subito dopo Ben ritrovati alla seconda parte del nostro telegiornale sono le 14.37 minuti non ci sono aggiornamenti da parte delle agenzie vi ricordo che però l'informazione tornerà in diretta a partire dalle 16 con MTG 120 secondi in contemporanea su radio e video mediterraneo mentre questa sera sul canale 11 alle 21 Dolce Amaro Night canale 605 alle 21.30 la replica della Tana del Lupo e sul canale 694 alle 21.30 la replica di Verde Mediterraneo è tutto, grazie per averci scelto e buon proseguimento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti